Benvenuti a Dentro il Consiglio, l'approfondimento settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale toscano, tre gli argomenti che tratteremo quest'oggi emersi dalle sedute dell'8 e del 9 di marzo. Questi i titoli. Cannabis terapeutica approvata all'unanimità con 39 voti favorevoli, la proposta di legge sulla formazione del personale e sull'utilizzo di farmaci cannabinoidi. Caro Bollette, l'assessora Spinelli ha risposto a un'interrogazione a firma Montemagni, Meini e Galli della Lega sui rincari in bolletta che colpiscono anche le associazioni del terzo settore. Aeroporto di Peretola, mozione firmata dal consigliere Galli sull'inquinamento acustico derivante dal traffico aereo di Peretola. In aula ha risposto il presidente Gianni. Promuovere un'adeguata formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del sistema sanitario regionale. Questo è l'obiettivo della legge approvata in aula all'unanimità, nata da una proposta del consigliere del PD Jacopo Melio. L'atto nasce da una volontà di agevolare la conoscenza dell'uso dei farmaci cannabinoidi ed introduce una norma sulla formazione continua del personale sanitario. Il consiglio regionale ha risposto in maniera estremamente positiva votando all'unanimità questa proposta di legge che andrà ad inserire all'interno nel percorso di formazione continua offerto dalla regione ai medici di base e quindi si va a combattere quelle remore culturali che alcolone purtroppo impedivano la somministrazione di quello che è un vero e proprio farmaco salvavita a migliaia di cittadine e di cittadini che potranno così trarre un enorme beneficio da questo. Con questa norma che abbiamo approvato il consiglio regionale all'unanimità si va a dire che si dovrebbero inserire, che è bene che si inseriscano nei piani di formazione del personale del sistema sanitario regionale, dipendenti e convenzionati, quindi anche medici di base, tutta una parte di conoscenza sull'uso e le modalità prescrittive di questa tipologia di farmaci per diffonderne l'utilizzo laddove è necessario. Questo è un tema a me caro perché negli anni in cui sono stato presidente della Commissione Sanità abbiamo lavorato perché questo potesse diventare all'interno del programma sociale della nostra regione è una questione non soltanto di principio ma reale e quindi è stata attuata una politica importante che porta alla conoscenza, allo sviluppo, alla sensibilizzazione dell'utilizzo della cannabis. Per fini terapeutici noi sappiamo che il dolore di per sé è un alert nel corpo delle persone, non si deve convivere con il dolore, il dolore è una spia che quando si accende ti dà un segnale se si può sopperire al dolore, lo si può utilizzare per fini terapeutici. La cannabis è importante farlo, serve cultura, serve formazione, serve che il personale ne abbia consapevolezza non soltanto nell'accezione cosiddetto del fine vita ma anche nell'accezione dell'utilizzo durante le patologie, prima nelle fasi terapeutiche, una volta individuata una diagnosi che viene accertata. A questo punto va promossa anche la produzione, abbiamo presentato un emendamento alla mozione del collega Melio che impegna a cercare una soluzione per quanto riguarda quella parte di infiorescenze che sono la parte più problematica che vengono prodotte in eccesso da coloro che producono cannabis o producono canna per altri scopi, magari di natura industriale e che invece di essere distrutti o costituire un problema per la componente psicotropa che contengono possono essere al contrario utilizzati, magari come dati agli istituti che la trasformano per poter essere utilizzati. Oggi abbiamo sostanzialmente dibattuto in termini abbastanza precisi, cioè la cannabis per scopi terapeutici. Scopi terapeutici è una parte che molto spesso adesso non viene utilizzata per una certa titubanza, per una certa sorta di mancanza di cultura, di cultura medica riguardo a questo presidio. Invece purtroppo ce n'è bisogno in quanto ovviamente la cannabis può essere utilizzata in quelle forme di SLA, in quelle forme di cure palliative che molto spesso aiutano persone che soffrono veramente molto. L'assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli si è detta preoccupata riguardo alle conseguenze che i rincari di carburante e servizi quali luce e gas possono avere sui servizi garantiti dal terzo settore. Lo ha fatto rispondendo in aula ad una mozione in cui Elisa Montemagni, Elena Meini e Giovanni Galli della Lega chiedevano alla Giunta quali fossero le iniziative da intraprendere per supportare le associazioni di volontariato toscane per rispondere all'aumento dei costi di carburante e bollette al fine di evitare una riduzione dei servizi erogati alla comunità. La nostra è una fortificazione molto forte perché per noi il mondo del terzo settore è tutto, nelle sue diverse declinazioni a partire dal mondo del volontariato, promozione sociale, sportiva e naturalmente tutto il mondo dell'impresa sociale che per noi sono una rete straordinaria sia dal punto di vista del supporto attraverso il volontariato sia attraverso la gestione di servizi e quant'altro. Naturalmente noi continueremo a lavorare con loro per quanto riguarda la reazione dei bandi, che cosa è prassi e attività strutturale dell'ente. Naturalmente il caro energia ci sta preoccupando molto perché sta chiaramente incidendo anche sui nostri servizi direttamente perché anche le nostre strutture viaggiano a luce e con il gas naturalmente. Quindi il fatto che le bollette rischino di nuovo di dare un colpo molto forte alle associazioni perché naturalmente sono oneri molto importanti per le loro associazioni è una preoccupazione forte che abbiamo. Abbiamo fatto un bando di ristoro nella scorsa legislatura che ha visto anche l'entità delle richieste che ci sono state prodotte. Chiaramente in questo momento noi non abbiamo risorse sufficienti per intervenire in maniera efficace nei confronti del supporto agli enti. La mia è stata anche una richiesta di condivisione politica del problema, come l'interrogazione poneva, perché naturalmente qui abbiamo bisogno anche di un intervento a livello nazionale che ci consenta di destinare un maggiore quantitativo di risorse. Stiamo facendo anche una riflessione sul nostro bilancio ma naturalmente non abbiamo risorse sufficienti per intervenire su un tema così ampio. Io sono in parte soddisfatta della risposta perché capisco che il momento è complesso, arriviamo dal Covid e reperire le risorse economiche sia anche complicato. Ma è altrettanto vero che le associazioni di volontariato danno dei servizi. Quindi se li mettiamo in difficoltà dal punto di vista economico rischiamo che chi ci rimette siano i cittadini perché saltano quei servizi che ad oggi danno loro e che rischiamo comunque di dover dare come pubblico. Quindi abbiamo comunque un problema da risolvere. L'assessore ha chiesto a tutte le forze politiche di fare un appello anche a livello nazionale e io gli ho risposto ovviamente che al tavolo Stato-Regione ci sono seduti loro e che noi una mano proviamo a darla ma evidentemente la Giunta può fare la sua grande parte e non sono totalmente soddisfatta perché secondo me nelle pieghe del bilancio quantomeno bisogna guardarci per cercare di trovare una soluzione a questa problematica perché non va sottovalutata. Sappiamo quanto in Toscana le associazioni di volontariato sono importanti, quante ne abbiamo e quanti servizi danno. Quindi siccome sono realtà consolidate sul territorio su cui tutti i cittadini fanno affidamento non possiamo voltarci dall'altra parte in un momento in cui ci chiedono aiuto dopo che già hanno contrastato il Covid e sono state in prima linea in questi anni. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di reperire delle risorse e dargli un aiuto per cercare di portare avanti il grande lavoro che stanno facendo. Il Presidente Caravolletti è un dramma, è un dramma. Mi sarei aspettato che il Governo nazionale intervenisse in tempi sceleri invece non soltanto non è stato scelere nei tempi ma anche la manovra varata è nettamente insufficiente. Se il Presidente Draghi pensasse meno alla riforma del Catasto e più a venire incontro agli italiani magari rivedendo le aliquote IVA, magari rivedendo le tasse, in un momento come questo secondo me farebbe molto più un servizio alla nazione. La priorità del Governo e la riforma del Catasto a me sembra un insulto che in questo momento storico quando gli italiani vedono raddoppiare perché si tratta nella migliore dell'ipotesi di un raddoppio delle proprie bollette e delle proprie utenze, sentire e vedere che il Governo nazionale si sta preoccupando della riforma del Catasto mi sembra una doppia beffa. Interventi urgenti di Toscana Aeroporti per eliminare l'inquinamento acustico a Brozzi, Peretola e Quaracchi li ha chiesti con una mozione il Consigliere della Lega Giovanni Galli. Dopo un lungo dibattito il documento è stato ritirato per approdare in commissione su proposta del Presidente della Regione Eugenio Gianni che ha deciso di approfondirne i vari punti. Il dibattito stamani partiva da una mozione dell'opposizione, Giovanni Galli era il proponente, sull'inquinamento acustico e atmosferico provocato dall'aeroporto a Peretola. Ma io ho potuto rispondere che tutto questo può esserci nel momento in cui la pista rimane così com'è, perpendicolare con naturalmente Mantignano, Uniano, Brozzi, Peretola, Quaracchi, che sono toccati da un cono di volo che coinvolge 50.000 persone. Andare invece nella direzione dell'ipotesi progettuale che ho voluto fosse esaminata da Enac, che porta a una pista non parallela, come era stata ipotizzata, ma declinata e quindi moderatamente collocata in modo obliquo rispetto all'autostrada, porta il cono di volo a evitare da un lato Prato, come nel primo progetto veniva considerato, a limitare l'impatto su Sesto Fiorentino, a prevedere un cono di volo che va da un lato su aree naturali con bassissimi insediamenti abitativi, dall'altro su quello che è allo stato attuale, diciamo, quell'avvallamento determinato dalla collinetta della ex discarica di case Passerini. Il punto è che la richiesta che io, a nome del gruppo del Partito Democratico, ho fatto in aula al collega Galli di un rinvio, perché oggettivamente non volevamo votare contro questo atto, ma a trovare le condizioni con un rinvio che consentissero a noi e al Presidente Gianni, come poi ha fatto un intervento in aula che è seguito in parte, di motivare il fatto che quello che è chiesto nella mozione si può ottenere solo con la realizzazione della nuova pista. E siccome rispetto al dibattito in corso e alle scelte fatte ad ottobre dello scorso anno dal Consiglio a maggioranza riguardo alla nuova pista ci sono delle novità sostanziali che sono oggetto del dibattito quotidiano, che possiamo leggere sulla stampa, nei mass media, nei dibattiti televisivi a livello anche locale, che portano a dire che il progetto e l'ipotesi di una pista di 2.200 metri rispetto ai 1.650 attuali, moderatamente o leggermente obliqua, possa consentire di sviluppare il sistema reportuale toscano con l'ampliamento della pista di Peretola e quindi una maggiore fruibilità per i passeggeri, per le persone, al tempo stesso si rafforza anche l'ipotesi di investimento su Pisa, tant'è che il 15 marzo partiranno i lavori per la nuova aerostazione di Pisa e al tempo stesso ne beneficerà tutto il sistema reportuale toscano perché, come ho detto e ripeto, l'aeroporto di Pisa non è dei pisani, l'aeroporto di Firenze non è dei fiorentini, ma il sistema reportuale è dei toscani. Adesso ritorneremo in commissione perché se avessero votato contro, probabilmente anche se una mozione di indirizzo, ma avrebbero votato contro una legge che loro stessi, delle prescrizioni che loro stessi avevano messo all'interno di questa via. Per cui sarebbe stata veramente una cosa molto difficile da dover spiegare. Allora, da parte mia, siccome il Presidente Gianni mi ha detto che presentando questo documento di fatto sono contrario all'aeroporto, gli ho ricordato che nel 2009, quando mi sono candidato a Firenze, nel mio programma elettorale c'era proprio la realizzazione dell'aeroporto. Per cui non sono certamente uno contrario all'aeroporto, ma sono attento a quelle che sono le agevolazioni, chiamiamole così, a un soggetto privato che sta controllando l'aeroporto di Firenze e che ha fatto gli interventi che sono stati utili solo ed esclusivamente al proprio profitto e non all'interesse della comunità. Oggi abbiamo parlato di un altro tema che ha la stessa identica dignità del tema dello sviluppo aeroportuale. È un tema che riguarda 50.000 residenti toscani. Stiamo parlando di chi risiede a Brozzi, a Quaracchi, a Peretola, a Uniano, a Mantignano. Si tratta di 50.000 persone. Per chi non conosce questa zona, 50.000 persone vuol dire la sedicesima città della Toscana. Se questa fosse una città, sarebbe una città grande come Empoli, che da 30 anni a questa parte soffre l'inquinamento. Perché quando questi cittadini hanno dimostrato mettendo un lenzuolo bianco alla finestra, dopo una settimana il lenzuolo lo ritiravano dentro ed era nero, soffre di un inquinamento acustico fuori da ogni norma. Chiunque sia stato una volta in vita sua al giardino di Brozzi o di Quaracchi, chi sa che quando passa l'aereo la persona che ti parla davanti sembra che gli venga tolto il volume. Vedi muovere le labbra e non senti cosa ti dice. Il problema qual è? Il problema è che ai genitori di chi oggi vive a Brozzi e a Quaracchi, la politica 30 anni fa rispondeva «Non vi preoccupate, appena arriverà la nuova pista dell'aeroporto sarà sconfitto questo problema». Oggi abbiamo assistito in aula a una maggioranza che ha risposto ai cittadini di oggi «Non vi preoccupate, appena arriverà la nuova pista sarà risolto il problema». Grazie. Quando sarà arrivata la nuova pista il problema sarà risolto. Peccato che da 40 anni a questa parte non si fa che dibattere sulla nuova pista. Se per altri 40 anni dibatteremo sulla nuova pista non credo che sia una grande conquista per 50.000 residenti toscani. Bene, siamo giunti a conclusione. Vi ricordo che potrete seguire tutte le informazioni, gli aggiornamenti, gli approfondimenti sul sito www.inconsiglio.it costantemente aggiornato dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale. Dentro il Consiglio torna fra sette giorni. Arrivederci. Grazie a tutti.